Musica Festini gay, il nuovo parroco, no a giudizi affrettati, parla Don Giuseppe Carmelo, il decano della zona, parroco di Santa Lucia a mare. Ho trovato una comunità disorientata, ma bisogna aver fede e pregare. Evitiamo giudizi affrettati e invochiamo la misericordia di Dio. Camorra, arrestato consigliere comunale, stamane l'operazione della DDA a Ponte Cagnano, minacce e violenze su un consigliere di maggioranza per far cadere l'amministrazione Sica. Finisce in manette un esponente dell'opposizione, decapitato il clan Pecoraro. Minorenne spacciatrice con la sorellina, sconcertante scoperta dei carabinieri, una ragazza di 17 anni consegnava le dosi nella zona del pallonetto di Santa Lucia a Napoli, insieme alla sorellina di appena 7 anni. Così aiutava la madre, già arrestata. Fortuna, un tonfo e il corpo a terra. Al processo per la morte della piccola chicca al Parco Verde di Caevano parla il testimone chiave, Claudio Luongo. Ero giù al palazzo e ho sentito un tonfo, poi ho visto il corpicino e l'ho riconosciuta dai capelli biondi. Strage sulla 16, il bus non poteva circolare, Gennaro Lametta non aveva la licenza di autonoleggio, quel bus non poteva viaggiare. Un nuovo clamoroso particolare è emerso stamattina nel processo per la strage di Acqualonga sulla Napoli-Bari, ma la difesa di Lametta smentisce. Benevento, celebrati i 70 anni della destra, Mezzogiorno Nazionale festeggia i 70 anni del movimento sociale italiano. Viespo, Limalgieri e Colatruio ripercorrono le tappe dell'impegno del partito di Almirante nel Sannio. Eccoci di nuovo in diretta, 8 Channel News della sera, che apriamo con lo scandalo dei presunti festini gay. Sembra tornare il sereno nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone, finita al centro dello scandalo. Oggi ha parlato il parroco reggente chiedendo di non dare giudizi affrettati. Intanto però a Pozzuoli la curia indaga su un nuovo caso. Sentiamo i particolari. Il clima torna pian piano alla normalità, la parrocchia di Pizzo Falcone a Napoli, dopo il caso dei festini a luci rosse che ha investito Don Mario d'Orlando. Il parroco ha salutato ieri pomeriggio poche parole dal sacrestano, un breve commiato con i bambini del catechismo. E poi via, lontano dalla parrocchia di cui è stata guida spirituale per circa sei anni e dai clamori di una vicenda che lo ha sbattuto in prima pagina senza appello in attesa che il tribunale ecclesiastico faccia luce sui veleni di questi giorni. A Santa Maria degli Angeli, centralissima parrocchia di Napoli, c'è voglia di normalità dopo la sospensione temporale del parroco decisa ieri dal cardinale Crescenzio Sepe. Nella chiesa è arrivato l'amministratore, designato dalla curia per gestire la parrocchia, fino a quando non si farà chiarezza, è il decano della zona, Don Giuseppe Carmelo. Nessun accenno a quanto accaduto, ho trovato una comunità disorientata, ha detto, ma bisogna avere fede e pregare, evitando di dare giudizi a frettati e invocando la misericordia di Dio. Il parroco sospeso intanto ha incassato la solidarietà dei parroci del decanato. Una ventina, riuniti si ieri mattina, hanno deciso di rivedersi a breve proprio nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli per manifestare la loro vicinanza al sacerdote. Un'idea resa impraticabile dalla successiva decisione del cardinale, arrivata poi nel pomeriggio di allontanare il parroco dalla sua chiesa. Attimi di terrore in via dei Mille, nel salotto buono di Napoli. Tre operai, stiamo vedendo le immagini dell'accaduto, sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro, schiacciati da questa lastra di marmo caduta poco prima della pausa pranzo. Due lavoratori sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Fatebene Fratelli per gli esami di rito. Un terzo è rimasto ferito a un occhio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, gli operai stavano maneggiando la lastra di marmo sul cantiere di un edificio in ristrutturazione. Le mani della camorra sul comune di Ponte Cagnano, nel Salernitano, con minacce e violenze su un consigliere di maggioranza, volevano far cadere l'amministrazione Sica. Questa mattina all'operazione della Didia di Salerno con i carabinieri di Battipaglia, decapitato il clan Pecoraro, arrestato un consigliere dell'opposizione. Con la stessa violenza con cui minacciavano ed estorcevano soldi e commessi agli imprenditori della Piana del Sele, volevano esercitare anche il controllo dell'amministrazione comunale di Ponte Cagnano per piazzare un sindaco al loro gradito e connivente. E per avere finanziamenti europei si sono anche inventati un impianto di cogenerazione fantasma. E' stata denominata operazione Perseo. A condurla i carabinieri di Battipaglia, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Salerno, 16 le misure cautelari, 14 in carcere, una ai domiciliari e un'interdizione. Decapitato il clan Pecoraro-Renna, a cominciare dal capo, Francesco Mogavero, da una parte le bombe e gli attentati violenti per convincere imprese del settore agricolo e dei videogiochi ad affidarsi alla loro ditta di trasporti. Dall'altra, una costante pressione politica e così, alla vigilia del Consiglio Comunale del 31 maggio 2016, quando si doveva approvare il bilancio e un solo voto contrario avrebbe fatto cadere l'amministrazione di Ernesto Sica, il consigliere di opposizione Antonio Anastasio ha ordinato al clan di andare a convincere Luigi Bellino, membro della maggioranza. La prima volta sotto casa, di sera, gli chiedono di passare all'opposizione. La seconda volta, nel cantiere dove lavorava, gli ordinano di non presentarsi in aula. Ma Bellino denuncia tutto ai carabinieri. Il giorno del Consiglio Comunale, quel 31 maggio, lei ha detto c'era addirittura un controllo parastatale. Sì, in effetti monitoravano i movimenti di quelli che erano il sindaco e i consiglieri del Comune, addirittura scortandoli a piedi dalla sede comunale al posto dove si è tenuta l'assisa quel giorno. Ritenete che questo episodio sia isolato o si possa inscrivere in un'attività più ampia di condizionamento della vita amministrativa di Ponte Cagnano? Ebbene, diccelo. Gli episodi che riusciamo a provare spesso sono solo appunto dell'iceberg, per cui credo che gli episodi che abbiamo accettato sono solo una parte di quelli che potrebbero esserci a valle di questa, a monte di questa associazione. Nell'aprile 2009 il boss dei Casalesi, Michele Zagaria, ordinò ai suoi uomini di eliminare attraverso un finto incidente stradale Giovanni Zara, ex sindaco fino a poche settimane prima di Casa Pesenna, paese natale del capo clan e luogo in cui Zagaria aveva trascorso gran parte della sua lunga latitanza fino al giorno dell'arresto nel dicembre 2011. A raccontare del progetto che non fu portato a termine, ma che si concretizzò anche in un sopralluogo fatto dai killer presso l'abitazione di Zara, è Michele Barone, fedelissimo del boss, oggi collaboratore di giustizia. Il processo per la morte della piccola fortuna Loffredo, sono stato il primo a vedere fortuna a terra. Ero giù al palazzo e ho sentito un tonfo, poi ho visto il corpicino faccia a terra e l'ho riconosciuta dai capelli biondi. Era l'unica nel palazzo ad averli così. Il racconto è di Claudio Luongo, inquilino del palazzo del Parco Verde di Caevano, dal quale il 24 giugno 2014 è caduta a fortuna Loffredo. Ho iniziato a gridare chiedendo di chiamare un'ambulanza, continua Luongo, poi ho chiamato Mimma, urlando verso il suo balcone questi particolari della testimonianza di Luongo, giudicato un test chiave nel processo. Torniamo a Napoli, consegna la droga con la sorellina di appena 7 anni, è stata arrestata una diciassettenne, sua madre già in cella da un mese nel Maxi Blitz che ha decapitato il clan Elia al pallonetto di Santa Lucia. Preso anche il figlio del boss che prese parte alla stesa in via Toledo. Simone Tagliamparello. Napoli, pallonetto a Santa Lucia, un'altra ragazzina coinvolta nello spaccio di droga. La diciassettenne che consegnava droga del clan Elia insieme alla sorellina di soli 7 anni è stata arrestata. È in carcere finito anche il figlio di un esponente di spicco della criminalità, lo stesso che eseguì una stesa in via Toledo il 7 settembre dello scorso anno e che si scopre adesso aveva ordinato l'incendio dello scooter di una donna che non pagava il pizzo per l'attività di spaccio quando aveva solo 15 anni. Il ragazzo è destinatario del provvedimento eseguito nella scorsa notte assieme all'altro indirizzato alla diciassettenne sotto accusa per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti perché partecipava a tutti gli effetti secondo gli inquirenti alla gestione della piazza di spaccio sia vendendo le dosi che consegnandole a domicilio. Insomma un nuovo capitolo della triste storia di un'infanzia offesa mutilata avviata al crimine, quella dei bambini usati come pusher o sentinelle per controllare gli accessi al pallonetto invece di trovarsi tra i banchi di scuola o a giocare in cortile. Così dopo il blitz antidroga dello scorso 17 gennaio che ha decapitato il clan Elia portando dietro le sbarre 43 tra capi e gergari c'era stato l'intervento del tribunale per i minori che aveva sottratto sei bambini ai loro genitori camorristi. I sei piccoli di età compresa tra i 3 e i 14 anni sono stati affidati a case famiglie che si trovano lontano dalla campagna nel nord Italia. A Terzigno nel Vesuviano strappati i manifesti con un bacio gay. L'episodio ha sollevato molte polemiche nei comuni del Vesuviano che si riscoprono omofobi. Sentiamo Rocco Fatibene. Un bacio, due ragazzi che si sfiorano e una parte del paese che si indigna e volta le spalle. Terzigno al centro di un caso omofobo. A pochi giorni dall'uscita di quella foto su uno sfondo verde finita sulle strade del Vesuviano per pubblicizzare uno studio fotografico cittadino il manifesto del bacio gay viene strappato via. Qualcuno ha reagito male a quello che è stato visto come l'affronto di un giovane artista terzignese Roberto Menzione che però non si arrende ed i manifesti è pronto a metterne altri. Un po' come l'aspettavo perché magari non è andata giù a tante persone. Però posso dire che è una cosa normale quando tu vai a toccare un tasto dolente. Anche se la mia idea partiva dal fatto che nel 2017 il tasto dolente non doveva proprio esserci. Ancora non si abituano proprio all'idea di avere un figlio gay o di conoscere anche una coppia gay. Quando sente dell'ennesimo raid vandalico contro quello che poteva essere un simbolo dell'amore, anche se tra persone dello stesso sesso, a Giorgio Zinno, primo cittadino di San Giorgio Acrimano, primo sindaco gay d'Italia, quasi cadono le braccia. Che ci siano ancora persone barbare che sono all'altezza dell'uomo di Neandertal e forse anche un po' prima, questo sì esiste e c'è dovunque, però noi abbiamo una civiltà per fortuna molto avanzata su questo. È ovvio che però continuano a esserci gli imbecilli, coloro che guardano al passato e guardano al non diritto dell'altro come idea di diritto proprio e continuano purtroppo a vivere tra noi. Speriamo che piano piano scompaiano. Baby gang alla stazione della metropolitana di Piazza Medeo a Napoli. L'altra sera hanno preso di mira un giovane aggredendolo con un estintore. Piazza Medeo, terra di nessuno. Dopo una certa ora nella stazione della metropolitana succede di tutto. Aggressioni, devastazioni e saccheggi. Purtroppo proprio in questo luogo dove passano centinaia e centinaia di persone non ci sono le telecamere e così di che diventa terra di nessuno. Diversi casi segnalati alla polizia. L'ultimo lunedì scorso quando un giovane è tornato a casa solo accompagnato dagli agenti. Dieci minuti di terrore circondato da una baby gang che ha preso l'estintore e glielo ha svuotato addosso. Un altro ragazzo racconta che le scene come quelle di lunedì si vivono spesso. L'altro giorno un gruppo di giovani ha cercato di incendiare carte e altro e a pochi passi dai binari. Insomma una piazza diventata pericolosa è preda di vandali e baby gang. Gli stessi malviventi che spesso si accaniscono anche con i dipendenti della stazione forzando i tornelli e lanciando pietre contro i treni in corsa. I pendolari ma anche i cittadini che sono costretti tutti i giorni ad assistere ad uno spettacolo simile chiedono semplicemente più controlli. Magari con l'installazione delle telecamere. Questo potrebbe essere un primo passaggio importante per il controllo della criminalità. Intanto da Trenitalia fanno sapere di non essere stati informati di quanto avvenuto lunedì. In realtà il personale avrebbe dovuto sapere del danneggiamento e del furto dell'estintore che però non è stato comunicato. Andiamo ad Avellino. Gennaro Lametta non aveva la licenza di autonoleggio. Quel bus non poteva circolare. Emerge un nuovo clamoroso particolare nel processo per la strage sulla A16 del luglio 2013 ma la difesa di Lametta smentisce. Nuova udienza in tribunale ad Avellino sulla strage del bus che nel luglio 2013 provocò la morte di 40 pellegrini di Pozzuoli. Particolarmente interessante è la disposizione di Dario Mainiero, agente della polstrada di Avellino che ha ricostruito i minuti immediatamente successivi alla tragedia. Raggiunsi il luogo dell'incidente in 20 minuti partendo dalla mia casa di Mercogliano. Ho fatto gli ultimi 200 metri a piedi, ho visto la coda dei veicoli lungo l'autostrada, li ho controllati attentamente uno ad uno e non c'erano autotrainate. Circostanza questa di grande rilievo perché l'avvocato difensore dell'autista Gennaro Lametta ha riferito di un veicolo in traino che avrebbe costretto il suo assistito ad una brusca manovra e alla frenata che avrebbe poi causato l'incidente. Mainiero si è poi soffermato sull'attività di indagine svolta presso la motorizzazione civile di Napoli raccontando che non è mai stata trovata la prenotazione che corrisponde al pagamento della tassa di revisione del bus. Inoltre al comune di Cercola non c'è traccia della licenza di autonoleggio intestata ai Lametta per cui il bus non poteva circolare. Infine parlando dell'ingegner Saulino, uno degli imputati per la falsa revisione del bus, Mainiero ha chiarito che nel giorno della presunta revisione sul mezzo della Mondo Travel Saulino avrebbe effettuato 21 revisioni in 162 minuti, dato certificato dagli orari di ingresso e uscita dagli uffici della motorizzazione, un numero pari a 7 minuti e 40 di media per ogni veicolo, dato tecnicamente impossibile. In sede di controesame Mainiero, incalzato dalle domande dell'avvocato Sergio Pisani, difensore di Lametta, ha dichiarato di non avere alcuna conoscenza diretta di tutto quanto affermato, ribadendo più volte che quanto dichiarato era frutto di fatti che gli erano stati raccontati. La politica ora ai 70 anni del movimento sociale italiano, il ricordo a Benevento con Viespoli, Malgeri e Colatruio che ripercorrono le tappe dell'impegno del partito di Almirante nel Sannio. Cristiano Vella. 70 anni fa nasceva il movimento sociale a Benevento, evento ricordato all'Hotel President dal presidente di Mezzogiorno Nazionale Pasquale Viespoli, dall'ultimo segretario dell'MSI Colatruglio e dall'ex parlamentare iscrittore Gennaro Malgeri. Tutti hanno riflettuto su una destra che nel post-MSI non ha saputo cogliere gli spunti di quell'epoca, puntando sui numeri piuttosto che sulle idee. Il tema non è tanto la riaggregazione di quel che c'era, il tema è come aggregare nel tempo nuovo e rispetto alle sfide epocali che ci troviamo a dover fronteggiare, forze, intelligenze, categorie sociali che sfidano la globalizzazione in nome della sovranità nazionale e popolare. Parlare del movimento sociale italiano, come giustamente diceva lei, non è soltanto un'operazione nostalgia, anzi al contrario, è un'operazione per rimettere a posto delle idee che si riteneva molto stupidamente, mi passi questo termine, dimenticate o comunque non più all'attenzione della vita civile. Monopolizziamo il mondo giovanile, era la prima associazione che noi facevamo alla Giovane Italia e in molti aderirono anche persone che poi si sono ritrovati in altri partiti. bisogna, almeno nelle nostre intenzioni, riprendere quel percorso e cercare di riportare quei valori che per noi sono stati i valori di una vita. C'è anche Salerno nella top 10 delle città turistiche italiane più convenienti per il rapporto qualità-prezzo. La classifica è stata stilata da Trivago, esulta Federalberghi. Lanzilli. Nuovo riconoscimento per la città di Salerno e la sua vocazione turistica. Secondo Trivago, leader mondiale nel comparto viaggi, il capoluogo rientra nella top 10 delle città italiane per rapporto qualità-prezzo. Secondo lo studio che ha analizzato le strutture ricettive attraverso il Best Value City Index, la città, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, si posiziona al 54esimo posto nella graduatoria europea. La classifica tiene conto della qualità abbinata alla convenienza delle strutture ricettive. Per il presidente di Federalberghi Salerno, Giuseppe Gagliano, c'è di che essere soddisfatti. Il concetto di qualità che è imprescindibile per poi lasciare qualcosa di positivo nella mente dei turisti che tornano a casa e possono divulgare la loro esperienza, si spera positiva, e parlare con altre persone del tempo trascorso nella città di Salerno. Presidente, si parla anche della convenienza di alloggiare a Salerno, diciamo che da questo punto di vista anche gli albergatori fanno la propria parte. Sicuramente fanno la propria parte, convenienza non per forza sinonimo di prezzo basso, ma di alto rapporto tra prezzo pagato e qualità percepita, che rientra appunto nel concetto di qualità dell'accoglienza che Salerno sta portando avanti come destinazione turistica. Ora parliamo di alloggi popolari, perché ad Avellino c'è stata la protesta di chi una casa l'aspetta da tempo e chi la vede invece cadere a pezzi tra topi, degrado e amianto. Una graduatoria di assegnazione ferma da tre anni, tutta la rabbia delle 700 famiglie in attesa di un alloggio decoroso raccolta da Simonetta Iepariello. 700 famiglie che aspettano una casa, cantieri di edilizia pubblica fermi è la graduatoria delle assegnazioni che non scorre ormai da tre anni. Inquilini in rivolta ad Avellino, oggi la riunione al circolo sociale della stampa della sua casa, dove si sono raccolte storie e volti di sperazioni e rabbia, di chi una casa ce l'ha ma praticamente una barra da amianto, o chi l'aspetta da anni anche su una sedia a rotelle, tra pensione ridotta e tanti dolori. Eccolo generoso paralizzato da cinque anni per una malattia degenerativa che lo costringe su quella sedia. E' una vita che sto facendo domande per la casa, però come vedo con la graduatoria che ci sta, una famiglia di quattro persone che possono, non oggi ma domani, produrre reddito e vengono più punteggio di me che sono bloccato e che comunque non posso lavorare. Un coro unico di voci diverse che arrivano dalla periferia dimenticata, che parlano di disperazione e tanto degrado. Come viene mio figlio, comincia a tossire per l'amianto che c'è, dice mamma io non vengo più a casa. I ditti sono sfornati, i bagni sono scassati, i pavimenti sono tutti rotti, non c'è niente in tecchia la casa. E' no schifo insomma, là non si può più vivere, noi non abbiamo soldi, il sindaco si deve muovere in questa città perché fa fin da sempre di niente. E' la paura comune, se ne puoi con tutti i cattivi ti cacciano forti, vanno sfratto. Non c'è dubbio per il presidente di Assocasa, Elio Amodeo, che chiede subito soluzioni immediate. Noi volevamo mettere il discorso graduatoria che da circa 4 anni è totalmente firme. Un'analisi impietosa, quella presentata dalla Confcommercio Benevento sulle attività commerciali e turistiche in città, un settore in calo di oltre il 20%. Maria Teresa De Lucia. Oltre il 20% in meno per le attività commerciali di Benevento. E' il dato che inchioda il capologo Sannita al terz'ultimo posto dell'analisi su come sono cambiati i centri storici di 40 comuni italiani di medie dimensioni. Uno studio di Confcommercio con SIC Camera che si pone l'obiettivo di capire come le strutture commerciali e turistiche si sono trasformate nel periodo dal 2008 al 2016. I dati che emergono sulla città sono tutti dati purtroppo negativi. mantiene solo la ristorazione e gli esercizi diciamo di bar e crolla tutto il resto. Nel Sannio si assiste a un calo prevalentemente oggi sulla città di Benevento, oggi conformiamo i dati della città, di oltre il 50% in tutte le attività. Reggono solo bar, alberghi, ristoranti e farmacie insomma. Il presidente e i giovani imprenditori della provincia di Benevento, Antonio Rossi, non manca di presentare le sue proposte. Riorganizzare il centro storico si assiste a un'economia a due velocità. Noi proponiamo un incontro con i proprietari dei locali commerciali e anche di poter effettuare delle convenzioni con il comune o un consorzio che può consentire prevalentemente ai giovani imprenditori di poter adoperare i locali commerciali per un tempo limitato. Un tavolo di concertazione dove dare una vocazione di centro commerciale naturale o di investire i giovani imprenditori con una riqualificazione per esempio dei bassi, un project finance. E nuove polemiche sui lavori di Piazza Libertà d'Avellino. Stavolta nel mirino dei cittadini finisce il cubo di cemento che ospiterà un ascensore proprio nel cuore della piazza. Piazza Libertà d'Avellino è ancora oggetto di discussione, questa volta a scatenare polemiche e critiche il maxi cubo in cemento che accoglierà l'ascensore per disabili e che porterà ai sottoservizi. Per amor di verità la costruzione dovrà essere ancora completata con un rivestimento in pietra di bisaccia, ma già non piace alla stragrande maggioranza degli avellinesi. Se l'hanno fatto vuol dire che c'era il motivo di fare una cosa del genere. Esteticamente che ne pare? Esteticamente mi sembra una casa dei campagni. È una cosa brutta. Potevano farla diversamente, più architettonica. Non è così cemento là fuori. Lo dovranno rivestire con pietra? Non è bella, non è bella. Hanno ruinato una piazza questa cosa che hanno fatto. Hanno tolto gli alberi. Non sa, a Vescovo che si perdeva la visuale. Poi hanno fatto un giro casariello, il casariello e tutto. Secondo me hanno metto un re in coppa là. Chi lo sape come va a finire? Ma a me mi sembra una cosa come fosse una caserma di lucia rossa. Che vanno i femminari, la sera si va a fare quegli servizi che si devono fare. Né più né meno. Poi se guardiamo dal lato opposto, le fontane non si vedono proprio. Io già penso che questa piazza, così come è stata impostata, diventerà solamente un deserto. Mettere quel parallelepipedo è il completamento di questo triste progetto. L'impatto visivo no, non è bello, è la verità. Però se l'architetto l'ha studiato, va bene, noi giudiamo le genie, di che facciamo. Dagli Avelinesi ai Salernitani, dopo la denuncia della CGL, ai nostri microfoni dicono Salerno è una città sporca ma non solo per colpa di chi l'amministra. Ognuno deve fare la sua parte, l'amministrazione alla quale viene imputata una minore attenzione ai temi del decoro urbano rispetto al passato, ma anche i cittadini che dovrebbero essere più attenti e rispettosi. A Salerno tiene ancora a banco la questione relativa alla tutela dell'ambiente. La sensazione è che la città sia sporca e che le criticità siano molteplici dal centro alla periferia. Anche la CGL ha sottolineato che bisogna fare di più e che Palazzo Guerra è chiamata ad una maggiore attenzione su questo versante e con loro anche i cittadini. Prima di questo sindaco qua la città era più pulita, adesso lascia un po' a desiderare. Sono già 4-5 anni che comunque lascia molto a desiderare. Si può sempre fare di più comunque per la propria città sicuramente, però comunque Salerno è una città vivibile e anche molto secondo me ben organizzata. Credo che bisognerebbe fare qualcosa di più, l'esempio qua sono diverse settimane che qui c'è una puzza che non si può resistere qua e non si piglia nessun provvedimento, non lo so perché. Secondo me, a mio giudizio, questo punto qui è stato sempre ed è il salotto di Salerno perché è diventato il cesso di Salerno, è proprio bello chiaro chiaro. Come si pulisce così si posa di nuovo la spazzatura e non si tiene conto che bisogna stare attenti. È una città che si impegna secondo me, anche perché siamo stati una delle prime città in Italia a fare la differenziata, siamo molto attenti in questo. C'è bisogno sicuramente di fare di più. Non me la piglio con l'amministrazione perché non è una cosa semplice, insomma, guardate, parliamoci chiaro, però dovrebbero avere un po' più di attenzione. A Dariano Irpino mostra preoccupanti segnali di cedimento il viadotto Manna-Trettori. Siamo stati sul posto a documentare la situazione con Gianni Vigoroso. Nessun allarmismo ma solo una legittima domanda. Siamo sicuri lungo la variante Manna-Trettori, guardando in che condizioni versano questi blocchi di cemento che sorreggono il viadotto? Le istituzioni sono a conoscenza di questa situazione. Felice Vetillo è un ambientalista. Certo, sono già a conoscenza da qualche anno di questa situazione e ancora tuttora non vedo qualche risvolto, cioè anzi vediamo che i piloni sono ancora di più danneggiati in confronto a qualche anno fa. C'è un timore perché poi se noi riusciamo a vedere è tutto sul lato destro della carreggiata che si sta creando questo fenomeno del scretolamento del cemento armato. Chiunque può passare qui sotto e vede proprio il ferro uscire fuori, bisogna fare una buona manutenzione quando prima, penso che sia opportuno, visto che ci stanno succedendo un po' di casino in tutta Italia proprio su queste strutture, diciamo a vedere sui... Prima che sia troppo tardi. Certo, prima che sia troppo tardi bisogna intervenire, almeno a fare un controllo e a darci qualche... qualcuno ci dia una rassicurazione che si possa, diciamo, transitarla tranquillamente su questo viadotto. Il caso Mensa-Benevento si va ormai verso lo stop del servizio. Il 7 marzo scadrà il servizio provvisorio Mensa nelle scuole comunali di Benevento. Dopo quella data il Comune potrebbe interrompere fino alla fine dell'anno il servizio. Alla base di quella che appare sempre più con il passare dei giorni, l'orientamento più plausibile, anche se è da precisare che il sindaco Mastella qualche giorno fa aveva parlato di un riaffidamento, ci sono numerosi problemi per l'amministrazione, come ci ha spiegato l'assessore alle scuole Amina Ingaldi. Da un punto di vista di proroga si potrebbe tranquillamente ipotizzare l'affidamento ancora una volta in proroga a quadrelle. La qualità del cibo è stata soddisfacente, ci sono però delle problematiche che noi stiamo affrontando. di non regolarità dei pagamenti da parte di quadrelle ai dipendenti. Purtroppo ci troviamo di fronte a 1900 bambini iscritti a tempo pieno. Il solo 25-30% è fruitore della mensa scolastica. Di questi 220-230, dipende dalla giornata, solo il 50% paga. Pertanto è doveroso da parte mia sottoporre anche agli esperti il parere, perché come Comune noi già siamo in dissesto. Nell'arco di questi due mesi abbiamo già un buco di quasi 4.000 euro. Tre giorni di eventi tra maschere e folclore. Si rinnova anche quest'anno la tradizione secolare della Zezza di Bellizzi ad Avellino. Vediamo. È tempo di carnevale. Si rinnova l'antichissima tradizione della Zezza di Bellizzi ad Avellino. Un programma di eventi che si snoda tra sabato 25 febbraio e martedì 28. Si comincia con l'esibizione al Teatro del Carcere di Bellizzi Irpino. Poi domenica mattina alle 10.30 sfilata lungo il corso Vittorio Emanuele preceduta dalla Zezza in mostra nell'ex scuola elementare di Bellizzi. Con un repertorio fotografico, costumi e testimonianze raccolte sul territorio della contrada avellinese. Sempre domenica alle 11.30 uno spettacolo speciale dedicato alla cittadinanza di Avellino in Piazza della Libertà con la canzone di Zezza e il ballo della quadriglia. Ernesto Spartano, presidente dell'Associazione Zezza di Bellizzi, auspica presto una fondazione per riunire sotto l'unica egida tutti i carnevali irpini. È arrivato il momento che si crei una fondazione e non ci sia più campanellismo e municipalismo che non fa bene a questa cultura del carnevale irpino fatta di anima, di cuore, di passione. Noi siamo caldi, senza offesa per Viareggio, per Pudignano, per Fano. Lì si tratta di legno, di carta. Qua c'è la persona umana, c'è l'intelligenza e tutti insieme è ora di fondare appunto, ripeto, questa fondazione per dare lustro a questa terra che non è seconda a nessuno, a queste tradizioni carnevalesche. Ha firmato questa edizione in regia Orlando Matarazzo. È tutto da parte mia. Buon proseguimento con i programmi della rete. Grazie a tutti.